Shard Coding Shard Coding Shard Coding e questo l'idea di questo pitch alla base è di portare avanti un discorso che abbiamo iniziato appunto nel 2019 in particolare su come portare e migrare sostanzialmente un'architettura monolitica a un'architettura microservizi il nostro primo pitch infatti è stato nel 2019 è stato il The Monolithic Approach di cui abbiamo parlato insieme a Fabio che riguardava sostanzialmente la migrazione e quali sono le best practices di migrazione di un'architettura monolitica verso un amico servizi ora l'idea di questo pitch è esattamente di portare avanti questa tematica quindi sarà un pitch che è propedeutico a un futuro workshop che è in programma che in realtà doveva essere fatto nel 2020 ma poi causa pandemia abbiamo dovuto rimandarlo però l'idea è di riproporlo verso diciamo da giugno in poi ora vediamo un attimo la data quale sarà di riproporla diciamo online, una versione online durante il quale l'idea è di effettuare una sessione di coding live insieme e di portare diciamo in pratica tutto ciò che abbiamo già detto nei pitch passati e ciò che diremo questa sera allora mi presento velocemente, sono Francesco Derre sono un ingegnere informatico, attualmente lavoro in Almaviva come Principal Solution Architect mi occupo sostanzialmente di progettazione e sviluppo di architetture amico servizi orientato a cloud, architetture ibride e comunque diciamo tutta parte di progettazione per la digital transformation della pubblica amministrazione vi lascio i miei riferimenti per qualsiasi cosa, vi possiamo rimanere in contatto, mi fa molto piacere iniziamo perché le tematiche trattate sono tante l'idea è di innanzitutto un riepilogo rispetto a quello che sono effettivamente le architetture amico servizi e poi andremo a vedere come il domain driven design cercheremo di parlare appunto del domain driven design però orientato con una finalità ben precisa ovvero la progettazione di architettura amico servizi quindi cercheremo di capire perché un progettare un'architettura amico servizi si comporta determinate scelte, impone diciamo un'analisi approfondita sui dati e vedremo perché e come questo può essere coadiuato dal domain driven design iniziamo subito con la parte dei micro servizi allo stato dell'arte ce ne sono numerose di definizioni e sono tutte corrette perché definiscono sostanzialmente l'architettura amico servizi vi riporto questa perché di base introduce da subito tre concetti che sono chiave per le architetture amico servizi innanzitutto è un approccio quindi è uno schema o modello chiamamolo come vogliamo architetturale che va a decomporre la nostra applicazione in un insieme di entità chiamati appunto micro servizi ognuno dei quali è diciamo focalizzato su un'unica funzionalità ben precisa e ben delineata e rappresenta quindi un accoppiamento lasco con tutti gli altri e diciamo ha una responsabilità con un focus solo sulla sua funzionalità questo è un concetto molto importante quindi innanzitutto abbiamo tre concetti fondamentali da cui partire uno è che abbiamo un insieme di servizi di entità quindi che in qualche modo dovranno comunicare attraverso la rete introduciamo poi il contesto dei cosiddetti bounded context cioè il confine logico sostanzialmente su cui vanno a lavorare i micro servizi e il concetto di indipendenza perché ogni micro servizio è appunto indipendente per garantire appunto l'accoppiamento lasco con i restanti questa slide è diciamo doverosa in quanto è un rimando a ciò che abbiamo già trattato con Fabio nel nostro The Monolithic Approach e sostanzialmente va a confrontare brevemente quello che era diciamo l'architettura monolitica un'architettura layer classica rispetto a un'architettura micro servizi ne abbiamo parlato ampiamente vi riporto diciamo quali sono i principali focal point e quindi diciamo gli aspetti positivi di avere un'architettura micro servizi rispetto a un'architettura monolitica ovvero innanzitutto abbiamo una facilità di sviluppo intesa come velocità di sviluppo nel software in quanto essendo disaccoppiati le funzionalità possiamo andare a dedicarci su una rispetto all'altra senza impattare sulle funzionalità che non sono proprio della modifica su cui stiamo lavorando abbiamo una maggiore resilienza perché siamo chiaramente distribuiti e quindi se abbiamo un fault in caso su una singola funzionalità ciò non andrà a impattare sulle altre abbiamo ovviamente anche il discorso di scalabilità implicita perché possiamo scalare verticalmente su una singola funzionalità si porta dietro tutto il discorso di deploy agile inteso come rilascio della nostra applicazione e quindi anche un discorso del meantime to failure cioè la possibilità di ripristinare eventualmente a fronte di un guasto in modo molto più veloce rispetto a un'architettura monolitica e quindi in ultimo abbiamo la manutenibilità perché chiaramente è molto più manutenibile un'architettura micro servizi rispetto a una monolitica bene, l'accesso ai dati è proprio quello su cui diciamo ci andremo a focalizzare nel pixel di questa sera condivido qua di nuovo il confronto diciamo da un accesso tradizionale quindi di un'architettura che può essere appunto monolitica a layer rispetto a uno micro servizi innanzitutto per assicurare il discorso di indipendenza ogni micro servizio avrà la sua base dati rispetto quindi a un approccio tradizionale in cui abbiamo un'unica base dati che è centrale quindi quindi abbiamo un accesso centrale al dato e che quindi dovrà in qualche modo garantire voi ogni funzionalità per il nostro applicativo però sostanzialmente la macro differenza è che ogni micro servizio è dedicato su una funzionalità e questa funzionalità interagisce su una propria base dati ora abbiamo detto che nell'architettura e micro servizi le funzionalità sono disaccoppiate sostanzialmente vengono realizzate da più entità quindi in qualche modo queste entità dovranno comunicare tra di loro ci sono due macro modalità che sono la comunicazione sincrona e quella sincrona banalmente nella comunicazione sincrona si utilizza di base quello che è il protocollo HTTP che è un protocollo sincrono quindi senza fronzoli il client invia una richiesta e attende attivamente la risposta nella comunicazione sincrona ciò non avviene e quindi viene disaccoppiata sostanzialmente la comunicazione tra il mittente e il destinatario e quindi prevede l'utilizzo diciamo ora lo vedremo generalmente di code o sistemi di pubblicità ma ne parleremo a breve in cui appunto il client invia un messaggio e attenderà diciamo verrà poi invocata la risposta senza attenderla attivamente un metodo per realizzare la comunicazione sincrona è proprio l'introduzione di code nell'architettura e micro servizi spesso si fanno utilizzo delle code in quanto permette innanzitutto il disaccoppiamento tra il mittente e il destinatario ma poi permette di andare a scalare in modo indipendente ciò che significa che possiamo scalare in base a per esempio contesti applicativi oppure semplicemente se dobbiamo per esempio tollerare picchi di carico in qualche modo beh possiamo andare a scalare per esempio i processi che andranno a leggere i messaggi rispetto a quelli che invieranno i messaggi possiamo scalare in modo indipendente inoltre garantisce anche l'ordinamento di processamento in quanto una coda funziona con modalità FIFO quindi fast in fast out e in più garantiamo anche la persistenza e quindi la resilienza del sistema in quanto i messaggi essendo persistiti all'interno della coda non vengono persi anche in caso di fold piccola nota molto spesso per applicazioni legacy che si stanno migrando verso il cloud spesso si utilizzano come sistemi di integrazione in quelle architetture hybrid cloud quindi che mixano sostanzialmente architetture parti on premise rispetto a parti sul cloud un'evoluzione dell'utilizzo delle code sono i sistemi publish subscribe generalmente questa metodologia di comunicazione è fortemente utilizzata nell'architettura microservizi perché è l'unico modo per ottenere tre livelli di saccoppiamento cioè quello spaziale, temporale e di sincronizzazione come funziona? allora innanzitutto abbiamo una nuova entità chiamata message broker sostanzialmente che si occupa quindi di persistere al suo interno quindi avrà una coda, persisterà i messaggi però non limiterà la frizione di questi messaggi a una logica di polling o comunque di prelevamento del messaggio da parte di chi effettivamente è interessato ma si occuperà del delivery effettivamente di questo messaggio quindi la base è molto semplice i subscriber quindi chi consumerà il messaggio dichiarano il proprio interesse su un particolare topic ed è per questo che vengono chiamati sistemi topic based o quindi anche pattern based o event based comunque sostanzialmente rappresentano un interesse verso qualcosa quindi verso un topic, verso un pattern, verso un evento e i publishers quando andranno a inserire un messaggio di questo tipo lo inseriranno senza consegnarlo attivamente ai subscriber si occuperà il message broker di fare la delivery fisica del messaggio questo è molto interessante perché permette innanzitutto i publisher e i subscriber non devono necessariamente conoscersi cioè io publisher che pubblico un messaggio non è detto che devo conoscere quali sono i subscriber e quanti sono i subscriber e viceversa e soprattutto non è detto che devono essere attivamente collegati online allo stesso tempo un publisher può pubblicare un messaggio quando un subscriber è giù o viceversa perché tanto comunque si occuperà del delivery del messaggio il message broker un esempio molto semplice per esempio ce ne sono mille di prodotti però per esempio Redis può effettuare oltre che da cache può essere utilizzato come sistema di message broker bene adesso che abbiamo introdotto sostanzialmente le macro modalità di comunicazione ai microservizi abbiamo detto che devono essere indipendenti affinché siano indipendenti ogni microservizio dovrà avere l'accesso alla propria ed esclusiva base dati ciò significa che introduciamo un primo pattern importante dei microservizi che è quello chiamato appunto database per service quindi ogni microservizio quindi vengono riportati due come esempio hanno accesso diretto esclusivamente alla propria base dati esporranno il dato in delle interfacce quindi delle API ben definite verso l'esterno e quindi la comunicazione avverrà attraverso queste API non ci sarà mai accesso diretto di un microservizio verso la base dati di un altro microservizio questo però cosa significa? che prima di andare a definire la nostra architettura microservizi dobbiamo quantomeno avere in mente chiaramente qual è il nostro dominio dati e quali sono quindi i domini dati su cui effettivamente ogni microservizio dovrà andare a interagire introduciamo un altro concetto sempre basandoci sul nostro database per service che è il data as a service questa è una modalità di esposizione del dato che è propria e tipica solo dell'architettura microservizi perché? perché abbiamo detto che un microservizio non può accedere alla base dati di un altro microservizio e espone il dato attraverso delle interfacce quindi sostanzialmente va a mascherare l'esposizione del dato quindi diciamo a livello applicativo un'architettura microservizi è l'unica che può garantire alla cosiddetta persistenza poliglotta cioè possiamo andare a mixare tecnologie differenti di persistenza cioè in base a chiaramente al contesto applicativo il contesto funzionale di ogni microservizio possiamo scegliere in modo indipendente dal tutto il resto dell'infrastruttura quale tecnologia di persistenza andare a utilizzare nel nostro microservizio vorremmo avere architetture a microservizi che hanno per esempio accesso a database SQL Server oppure altri microservizi che per qualche motivo preferiscono invece utilizzare una persistenza documento orientale quindi per esempio MongoDB quindi in generale possiamo andare a unire mixare tecnologia con schema e senza schema sostanzialmente questa è la persistenza poliglotta e l'architettura a microservizi è l'unica che ti garantisce la possibilità di effettivamente di andare a realizzare questo tipo di infrastruttura ibrida a livello di persistenza ok però chiaramente da qui abbiamo diversi diciamo problemi cioè se ogni microservizio ha la sua base dati beh in qualche modo io per fare qualche funzionalità sicuramente dovrò in qualche modo recuperare i dati e aggregarli in qualche modo ottenendoli da diversi microservizi questo è un problema chiaramente perché abbiamo base dati distribuite quindi come realizziamo sostanzialmente delle query che impattano più microservizi e quindi che impattano più base dati questo viene realizzato attraverso un pattern ben preciso che è chiamato API Composition che si basa quindi sul concetto di entità API Composer che non è altro che un microservizio a tutti gli effetti ma è dedicato ad aggregare il dato di risposta di altri microservizi nell'esempio vengono riportati tre microservizi il microservizio A, il B e il C che accederanno alle loro base dati e poi ci sarà una query gestita dal nostro API Composer quindi attraverso delle API che si occuperà di invocare le API di ogni microservizio recuperare il dato di interesse aggregarlo in qualche modo o farci anche della logica dipende un po' da quello che dobbiamo fare ma sostanzialmente andrà a mascherare le chiamate verso i tre microservizi e risponderà con un messaggio che sarà l'aggregato dei risultati delle chiamate sui tre microservizi ok però abbiamo anche un altro problema avendo diciamo un data store distribuito in questo caso è un concetto molto generico non solo nell'architettura microservizi quando abbiamo base dati che sono distribuite il problema di fondo è come garantire la consistenza cioè se noi andiamo a replicare il dato dobbiamo garantire che la replica sia effettivamente consistente tra le varie repliche questo perché in un'architettura a microservizi ricordiamo che abbiamo il teorema di CAP che ci dice che soltanto due delle tre proprietà di consistenza disponibilità e partition tolerance sono verificate in un'architettura distribuita quindi rispetto a monolite diciamo quindi a un server a un database centrale e in realtà è una complicanza non da poco le proprietà ASID insomma facevano molto comodo sviluppare con le proprietà ASID in questo caso non le abbiamo quindi sostanzialmente le architetture microservizi da questo punto di vista sono molto più complesse rispetto a un'architettura monolitica quindi bisogna fare attenzione quando appunto si fa a giocare con la consistenza del dato ora vediamo esattamente cosa cosa intendiamo abbiamo due modalità per garantire la consistenza nei sistemi distribuiti in generale e quindi nell'architettura microservizi abbiamo la consistenza forte quindi la strong consistency detta anche strict consistency e quella eventual consistency che attenzione in inglese significa prima o poi cioè la differenza qual è nella consistenza forte diciamo in una presenza di qualsiasi aggiornamento tutte le successive operazioni in lettura che avverranno sul dato devono necessariamente quindi sono vincolate a restituire effettivamente lo stato del dato più aggiornato chiaramente questo viene realizzato con processi molto pesanti che diciamo chiamate di linearizzazione delle transazioni in quanto dobbiamo in qualche modo bloccare le letture che diciamo sui data store sui database che effettivamente ancora non sono allineati rispetto invece all'evento consistency che è una consistenza quindi molto più leggera in quanto non c'è nessun processo di linearizzazione delle transazioni ma semplicemente quindi non c'è un vincolo temporale diciamo in presenza di aggiornamenti una più letture possono ritornare anche il dato precedente quindi non è non è vincolato ad avere effettivamente il dato più aggiornato ora è chiaramente a livello di diciamo algoritmico l'evento consistente è molto più leggera e quindi generalmente si tenta di approcciare architetture microservizi che possano funzionare con una consistenza di questo tipo rispetto all'evento consistency generalmente sono algoritmi di default in vari prodotti che fanno questo tipo di lavoro la modalità di consistenza generalmente è sempre l'eventual ok come la garantiamo però la consistenza rispetto a transazioni che impattano più microservizi e quindi più base dati perché ogni microservizio ha la sua base dati quindi se abbiamo una funzionalità che è definita attraverso una serie di transazioni che impattano queste base dati beh noi in qualche modo dobbiamo garantire la consistenza nei termini in cui se c'è qualche problema e quindi dobbiamo effettuare per esempio una rollback della nostra transazione dobbiamo assicurarci di effettuare la rollback su tutti i database impattati come avviene? beh attraverso il pattern saga saga non è altro che una sequenza di transazioni locali a microservizi che vengono coordinate in qualche modo ora le andiamo a vedere sostanzialmente quindi definisce una sequenza in cui vengono attivate delle transazioni locali per ogni microservizio quindi per ogni base dati e una volta terminata si passerà al successivo ci sono due modalità per garantire questa diciamo orchestrazione e coreografia nel primo abbiamo chiamato appunto orchestrazione perché c'è un'entità che si occupa di orchestrare sostanzialmente le transazioni quindi è un controller centrale a tutti gli effetti che conosce quindi ha la logica esplicitata al suo interno in cui conosce quindi quali e in quale sequenza chiamare i microservizi rispetto alla coreografia dove non abbiamo un controller centrale ma la comunicazione è diciamo gestita eventi tra i vari microservizi la logica è distribuita cioè ogni microservizio sa che a fronte di un qualche tipo di evento dovrà andare a invocare una sua transazione e passare la palla a qualcun altro quindi diciamo la logica di implementazione è distribuita su tutti i microservizi nell'orchestratore invece è l'orchestratore centrale che al suo interno ha la logica dobbiamo quindi andare a scrivere sostanzialmente la logica di implementazione di questa serie di transazioni e quindi di chiamate verso i microservizi la differenza sostanziale è che anche se può sembrare molto più facile una modalità di orchestrazione in realtà è il contrario generalmente si tenta di andare verso modalità di coreografia perché per vari motivi sostanzialmente perché innanzitutto abbiamo un orchestratore centrale e quindi potrebbe essere sostanzialmente un single point of failure se va giù l'orchestratore beh il sistema si blocca quindi in qualche modo diciamo devo garantire anche una ridondanza dell'orchestratore stesso ma soprattutto perdiamo un po' quello che è il concetto di disaccoppiamento che è la base dell'architettura ai microservizi perché perché tutti i microservizi sono altamente accoppiati con l'orchestratore centrale quindi sostanzialmente perdiamo anche se effettivamente non sono accoppiati tra di loro ma sono altamente accoppiati sostanzialmente con l'orchestratore quindi sostanzialmente si tenta di andare verso soluzioni orientate alla coreografia bene tutto questo questa introduzione diciamo per quanto riguarda la gestione dei dati nell'architettura ai microservizi è perché per definire un concetto molto chiaro i microservizi sono altamente complessi da questo punto di vista cioè abbiamo aspetti positivi sono tantissimi rispetto a un monolite e comunque ad altri pattern architetturali però per quanto riguarda i dati sono effettivamente complessi portano dietro determinati problemi che devono essere in qualche modo risolti durante lo sviluppo cioè è vero che abbiamo un disaccoppiamento a livello di funzionalità e quindi ci permette tutto ciò che abbiamo detto quindi scalabilità fault tolerance e quant'altro però dobbiamo garantire innanzitutto la consistenza del dato dobbiamo gestire le nostre transazioni in caso di errori dobbiamo gestire le transazioni rollback quindi diciamo la compensazione di queste transazioni e quindi dobbiamo anche fare affidamento e quindi conoscere mentre diciamo gli sviluppatori dovrebbero conoscere quando vanno effettivamente a realizzare architetture di questo tipo alcuni pattern che sono pattern precisi quindi l'idea che dovete avere è che è quello che cerco di trasmettere oggi è che le architetture microservizi sono abbastanza complesse non sono immediate quindi c'è una bisogna trovare un certo trade off tra il livello di funzionalità che andiamo a cercare rispetto alla complessità in termini di gestione del dato quello che vogliamo fare quindi è capire come realizzarle come semplificarci questo a fronte di questi problemi che ci siamo detti il domain driven design cerca di aiutarci in questo sviluppo che cos'è il domain driven design beh in realtà a differenza di quello che si possa pensare non è una metodologia formale come può essere per esempio una modalità scrum di gestione dei progetti la dovete pensare più come un insieme di regole di best practice che hanno diciamo il fine di aiutarvi e velocizzarvi nello sviluppo di software in generale è agnostico rispetto all'architettura noi qui lo useremo per l'architettura e microservizi per determinate motivi che adesso vedremo ma lo possiamo usare per qualsiasi schema architetturale nulla ci viede di utilizzare il domain driven design anche in architetture monolitiche l'idea qual è di fondo è che ci permette di velocizzare lo sviluppo in quei casi in cui il dominio dati è molto complesso e la nostra complessità non è data solo dalla dimensione dei dati che sono tanti ma soprattutto che sono diciamo hanno una stretta dipendenza tra di loro andremo anche a capire questo concetto quindi il domain driven design è un insieme di regole di pattern che vanno a normare diciamo delle operazioni di realizzazione sviluppo software su un modello di dominio che è complesso e ha complessità crescente cioè anche aiuta anche l'evolvibilità della nostra architettura della nostra soluzione di base è orientato agli oggetti perché chiaramente avrà una sua modellazione del business e quindi è orientato a tutti gli effetti agli oggetti e quindi quando andremo a utilizzarlo sicuramente lo svilupperemo poi con una tecnologia quindi orientata agli oggetti Java C Sharp è quello che è e sfrutta di base il domain model pattern perché perché mette davanti il dato vi do un'indicazione un pochino più precisa vi riporto quella che è la definizione del creatore sostanzialmente del domain driven design che è Eric Evans del quale vi riporto anche il libro che vi consiglio di leggere non è banale ma è veramente molto interessante il quale sostiene che il problema principale quando andiamo a sviluppare il software indipendentemente dalla nostra architettura il problema principale è capire effettivamente quello cioè quali sono banalmente le specifiche cioè cosa effettivamente deve fare la nostra applicazione per dare valore ai dati del nostro business che in altre parole si può leggere come possiamo integrarci in modo più efficiente con gli esperti del dominio e quindi diciamola chi ricopre il ruolo di esperto funzionale beh il domain training design ha un insieme di regole che ci aiutano a fare questo allora innanzitutto introduce un approccio domain first quindi è orientato al dato perché perché da lì partiamo per astrarre il nostro modello cioè la nostra soluzione a ciò che dobbiamo andare a realizzare quindi abbiamo il dominio dati la modellazione non è altro che la modellazione quindi la risoluzione del nostro problema si basa su una collaborazione molto forte tra tecnici quindi sviluppatori e esperti di dominio quindi esperti funzionali e quindi cerca di velocizzare lo sviluppo intendendo quindi di andare a minimizzare il gap che generalmente c'è appunto tra la parte funzionale e la parte tecnica implementativa questo perché spesso quando andiamo a sviluppare qualcosa spesso ci troviamo davanti a questo che nel domain driven design viene chiamato big ball of mod sostanzialmente è un insieme caotico di entità relazioni insomma in cui è difficile distrecarsi quando si va effettivamente a sviluppare software e quando andiamo a sviluppare spesso otteniamo questo c'è il cosiddetto spaghetti code in cui chiaramente andiamo vari gruppi vari team negli anni vanno a sviluppare applicazioni nuove funzionalità risoluzioni bug e quant'altro ma se non c'è uno schema preciso sui dati e quindi sulle funzionalità beh è molto difficile poi andare a diciamo ottenere codice che sia efficiente anche per un discorso di evolvibilità futura quindi il domain driven design ha questi focus come andiamo a introdurre un pochino quali sono i concetti su cui si basa abbiamo detto che è un domain first quindi il primo focal point che abbiamo è il concetto di dominio quindi di modello di dominio che non è altro che una conoscenza in qualche modo logica e anche obiettivi anche quindi anche specifiche che hanno che diciamo che ruolano intorno al nostro al nostro business al cui interno avremo per esempio gli oggetti quindi le nostre entità ma adesso ne parleremo più nel dettaglio abbiamo i bounded context che se vi ricordate sono esattamente quelli di cui ho parlato nei microservizi quindi iniziamo ad avere già qualche indicazione sul perché il domain in driven design dovrebbe essere utilizzato nell'architettura a microservizi i bounded context nel domain in driven design hanno un ruolo fondamentale definiscono sostanzialmente un confine logico di di un particolare modello perché perché cercano di isolare una un qualche tipo di conoscenza abbiamo poi i servizi che non sono altro che dei canali di comunicazione tra i bounded context che andremo a realizzare e c'è un concetto molto chiave diciamo per quanto riguarda la cooperazione tra i tecnici e gli esperti funzionali che è l'introduzione di un metalinguaggio a tutti gli effetti che si chiama ubiquitous language che non è altro che un metalinguaggio quindi un linguaggio che deve essere sostanzialmente chiaro sia per i tecnici sia per gli esperti funzionali il vantaggio che vedremo è che innanzitutto andiamo a ridurre in qualche modo la complessità perché cerchiamo di analizzare e a modellare il nostro il nostro dominio dati una volta che abbiamo chiaro e compreso bene qual è il nostro dominio dati è più facile realizzare software abbiamo una comunicazione più efficiente tra i tecnici e chi diciamo è esperto del nostro business è più flessibile perché una volta che abbiamo definito correttamente il nostro dominio dati è più facile tenerlo aggiornato anche a fronte di cambiamenti di specifiche nuove e di eventuali bug di correzione e poi in ultimo ha diciamo un aspetto positivo anche a livello di user experience perché una volta che abbiamo definito concretamente in modo corretto il nostro dominio dati essendo domain first possiamo probabilmente realizzare delle interfacce utente molto più affini con quello che effettivamente è il nostro business per dare valore al dato bene abbiamo parlato dell'ubiquitous language vi do qualche esempio abbiamo detto che è un metalinguaggio quindi non è altro che un insieme di termini che devono essere compresi bene quindi non c'è devono essere privi di ambiguità compresi correttamente sia dai programmatori sia dai esperti di dominio questo perché perché chiaramente una volta che tutte le specifiche tutti gli incontri vengono realizzati attraverso questo linguaggio che non è statico perché deve essere diciamo aggiornato durante le fasi di sviluppo sapremo sempre come integrarci in modo molto più efficiente con chi deve dirci quali sono i requisiti quali sono le specifiche quindi è molto più facile utilizzare questo tipo di linguaggio che viene definito a tavolino prima e durante lo sviluppo del software quindi diciamo il tecnico non si limiterà a parlare con diciamo termini appunto che possono essere eventualmente compresi solo da programmatori ma devono essere compresi anche dagli esperti di dominio e viceversa ci sono chiaramente l'efficienza è bidirezionale in entrambi i sensi vediamo nel dettaglio quali sono i building blocks e poi vediamo come utilizzare questi building blocks per la nostra per la nostra architettura microservizi allora il domain driven design abbiamo detto che è un domain first si occupa di definire il dominio dati il dominio dati andrà modellato e lo andremo a modellare con determinate entità cioè delle entità non è altro che sono degli oggetti sostanzialmente in un linguaggio di programmazione saranno delle classi qual è diciamo il focus sull'entità che sono definite in qualche modo appunto da una sua entità quindi una sua identità per esempio la persona sarà una classe ma posso avrà una sua identità in quanto è univoca perché per esempio vorrei associarvi un codice fiscale quindi per me l'entità persona sarà chiaramente univoca ho un modo di ottenere effettivamente distinguere una rispetto all'altra i value object sono invece quegli oggetti che come l'entità hanno una serie di attributi che però non hanno un'identità concettuale quindi sostanzialmente un esempio banale per esempio vorrebbe essere il biglietto dell'autobus a me non interessa a chi a quale persona arriva uno rispetto all'altro è indipendente a me basta che arriva un biglietto dell'autobus se dovessimo appare modellare per esempio il software di prenotazione a me interessa che arriva uno rispetto all'altro no quello sarà un value object l'aggregato che è un concetto che poi riprenderemo più avanti è una collezione di oggetti quindi una collezione in realtà che contiene sia entità sia value object che però sono aggregati quindi sono referenziati in qualche modo con l'entità padre cioè l'entità radice li riprenderemo questo concetto perché effettivamente nella nostra architettura amico servizi vedremo effettivamente come realizzare partendo da questi aggregati quindi ci arriveremo il concetto di servizio che abbiamo detto prima quindi è una relazione tra i bounded context se andiamo a realizzarlo sostanzialmente non è altro che un'operazione che non appartiene logicamente a una o rispetto a un'altra entità quindi generalmente sono delle classi statiche dei servizi quindi dei metodi statici la factory per chi sviluppa software sicuramente conosce questo tipo di pattern ma sostanzialmente si occupa di istanziare quindi di creare degli oggetti per esempio di dominio come possono essere gli aggregati abbiamo il concetto di repository che non è altro che una collezione diciamo di oggetti che sono persistiti sul database e l'evento nel domain driven design abbiamo il concetto di evento che cos'è in questo caso beh molto banalmente è effettivamente una qualche modifica che ha quindi un side effect verso qualche entità bene abbiamo detto quindi che il domain driven design è indipendente dallo schema architetturale ma lo andiamo a utilizzare per il nostro scopo cioè realizzare l'architettura microservizi questo perché sicuramente per i concetti che abbiamo iniziato già a introdurre beh sicuramente ci aiuta qui vi riporto cinque step che sostanzialmente sono vanno effettivamente utilizzati così in questa in questa forma che ci aiuta quindi dall'analisi del dominio dati a effettivamente la realizzazione della nostra architettura microservizi avremo nel primo livello la definizione del dominio dati nel secondo nel secondo step la definizione del bundle context nel terzo la definizione degli entità degli aggregati ed eventualmente dei servizi dedicati poi avremo l'identificazione dei servizi e infine lo sviluppo dei microservizi chiaramente lo step 1, 2, 3 e 4 sono effettivamente coperti dalle modalità imposte dal domain treatment design l'analisi del dominio dati abbiamo detto che è la base di partenza quindi dai nostri dati dobbiamo cercare di capire qual è il dominio qui sostanzialmente abbiamo due strade allora uno possiamo andare a tentare di modellare la totalità del nostro business però generalmente è sconsigliato perché spesso quando si approccia questo con il domain driven design è perché il dominio dati è effettivamente complesso quindi porterebbe via troppo tempo quindi generalmente si tenta di fare un dominio dati e dividere eventualmente in sottodomini quindi per esempio andare a modellare una parte del nostro business lasciando invariato il resto e piano piano poi andare a modellare il resto che cos'è un dominio dati? beh è un contesto di conoscenza l'abbiamo detto che rappresenta una precisa attività del nostro business lo dobbiamo in qualche modo questa conoscenza andare a diciamo isolare rispetto al resto quindi abbiamo una forma di appunto chiamata segregazione di business e come effettuiamo effettivamente questa questa segregazione attraverso un workshop a tutti gli effetti tra tecnici e esperti funzionali chiamato e-ment storming non è altro che una riunione dove ogni persona insieme quindi definendo contestualmente anche l'ubiquitous language andiamo a scrivere banalmente su una lavagna quali sono gli attori coinvolti nel nostro dominio quali sono gli eventi e come interagiscono generalmente per siccome per evitare diciamo caos durante queste riunioni si tenta di rispondere a tre domande when what e u quindi quali sono le entità coinvolte qual è il dato coinvolto e come e come quali sono le relazioni si arriva sostanzialmente a tre a tre casi cioè uno ok risolviamo e cerchiamo di capire effettivamente qual è il modello di dominio due scopriamo che dobbiamo reiterare di nuovo questo event storming tre scopriamo che il nostro problema non è risolvibile perché non è detto che sia tutto risolvibile nel secondo step una volta che abbiamo buttato giù quali sono le entità e gli eventi che intercorrono tra le nostre entità e quindi abbiamo grandi linee abbiamo capito di che parla quali sono i dati coinvolti nel nostro dominio dati dobbiamo definire i bounded context l'abbiamo detto sono delle diciamo dei confini logici ok che vanno a mappare una particolare conoscenza questo perché perché cerchiamo di isolare una conoscenza specialistica quindi diciamo una volta che abbiamo definito il modello di dominio dobbiamo definire al suo interno i cosiddetti appunto bundle context all'interno dei quali possiamo avere entità value object oppure ancora meglio aggregati ora ne parliamo faremo un esempio di aggregati per capire anche meglio a livello di sviluppo cosa comporta definire un aggregato però innanzitutto possiamo capire che definendo un confine concettuale sul dominio dati in qualche modo potremmo prendere già questo confine e andarlo a mappare su un micro servizio questo potrebbe essere una soluzione generalmente non ci si limita a questo livello perché a questo livello già potrei costruire la nostra architettura micro servizi però avremo un micro servizio dedicato a un button context che dovrà garantire quindi che cosa di il funzionamento su molteplici entità su molteplici aggregati quindi generalmente uscirebbe fuori un micro servizio effettivamente pesante e complesso da gestire quindi si va un pochino più con granularità maggiore e quindi si arriva si deve arrivare agli aggregati come ci arriviamo agli aggregati beh innanzitutto capiamo che i bundle context dovevano comunicare in qualche modo tra di loro sono isolati e quindi se dobbiamo in qualche modo avere sviluppare delle funzionalità che intercorrono tra i vari bundle context beh devono comunicare in qualche modo come comunicano beh attraverso delle interfacce che dovremmo definire quindi torniamo sempre al discorso qui dei micro servizi che vanno poi effettivamente a comunicare in qualche modo ma nel domain driven design si utilizza la context map non è altro che una mappa a tutti gli effetti non rigida non rigorosa come può essere uno schema IR come non può essere uno schema UML ma semplicemente definisce quali sono le interazioni tra i vari bounded context e quindi come comunicano i nostri perimetri di dati le nostre entità quindi ogni cerchietto che vedete lì ha al suo interno in questo caso sono degli aggregati rappresentati però questi bounded context presi singolarmente vanno a comunicare con gli altri nella realizzazione nella fattispecie della context map quindi nella comunicazione questo spesso si traduce nel cosiddetto ACL cioè il nostro anti-corruption layer molti di voi sicuramente lo conosceranno o chi non lo conosce beh probabilmente l'ha usato senza saperlo però è un pattern molto utilizzato nello sviluppo software spesso utilizzato quando andiamo a fare delle migrazioni di applicazioni legacy quindi diciamo dei monoliti abbastanza complessi e dobbiamo migrarli verso delle architetture più moderne per esempio nei microservizi che cos'è l'anti-corruption layer di base non è altro che un servizio o uno strato che permette di far comunicare due o più sottosistemi in che modo però ogni sottosistema continua a comunicare con le sue interfacce ma l'anti-corruption layer implementa al suo interno una logica di traduzione e mapping degli oggetti e delle risposte in modo tale da avere la scena invariata la comunicazione di un sottosistema rispetto all'altro quindi per esempio nell'esempio ci sono due sottosistemi A e B uno A è quella parte moderna perché realizzata nei microservizi il B è un classico monolite se dobbiamo iniziare per esempio la migrazione di alcune parti del nostro monolite quindi di alcune parti di business che sono definite nel nostro sistema B andiamo a mapparci qual è il dominio dati e in alcune parti andremo a costruire la nuova architettura come facciamo a tenere però questa migrazione in modo graduale inseriamo un anti-corruption layer cioè un servizio interno che ti va a strarre diciamo la logica di comunicazione tra i due sottosistemi ciò significa chiaramente che la CL non è gratis perché innanzitutto abbiamo una diciamo aumentiamo il numero di messaggi scambiati in quanto poi dovrà avere poi anche una parte di traduzione mappi quindi aggiunge di certo una latenza nelle comunicazioni però generalmente questo è un approccio che si fa ok il terzo step una volta che abbiamo definito il nostro dominio dati abbiamo capito quali sono ad alto livello i nostri banner contest cioè i nostri confini diciamo entro i quali abbiamo le nostre funzionalità che dobbiamo andare a realizzare possiamo possiamo capire effettivamente quali sono gli aggregati e gli aggregati derivano esattamente dalle entità cioè una volta che abbiamo definite quali sono le nostre entità cerchiamo di collegarli in qualche modo aggregandole ora abbiamo detto che un aggregato che si chiama aggregate root nel domain driven design si chiama aggregate root cioè sono delle entità padre quindi una collezione di oggetti che possono mixare entità e value object come un esempio che però in qualche modo possiamo andare a relazionare con queste entità padre quindi diciamo dall'aggregato possiamo in qualche modo andare ad operare con una transazione sulle entità e sui value object interni è a questo livello che iniziamo a parlare anche quindi di consistenza del dato questo perché perché definito diciamo l'aggregato un aggregato dobbiamo anche andare a discutere di come garantire la consistenza con una transazione per esempio sul nostro aggregato dovremo garantire la consistenza sulla modifica delle entità e dei value object collegati e quindi diciamo a questo livello dobbiamo iniziare a pensare innanzitutto ci va bene nella nostra applicazione un'architettura basata per esempio su un evento al consistency beh generalmente la risposta è sì sono difficili i contesti in cui è richiesta una strong consistency però può capitare però è in questa fase che va discussa della consistenza del dato vediamo un esempio per farvi capire meglio allora qui sono riportate tre entità team project e member banale non è uno schema IR adesso vedremo perché sostanzialmente abbiamo necessità di modellare il comportamento per la gestione del team dei progetti associati al team e dei membri di un team quindi la prima cosa che ci viene in mente da fare sicuramente ogni sviluppatore va bene devo andare a realizzare un'applicazione che interagisce con queste tre entità mi vado a scrivere quali sono le proprietà di ogni entità quindi il nostro team avrà il suo team ID l'identificativo il nome e quant'altro il progetto avrà il suo identificativo e quant'altro stessa cosa per i membri ok piccolo sforzo invece di iniziare a buttare giù uno schema IR che tra l'altro sarebbe poco comprensibile per la parte di diciamo di esperti funzionali pensiamo a quello che dovrebbe fare cioè invece di orientarci sull'entità orientiamoci sugli eventi cioè se noi per esempio dovremo andare a realizzare questo tipo di funzionalità che realizza per esempio la delita cioè quando io vado a cancellare l'evento di cancellazione di un team ok e ipotizziamo che i requisiti sono che a fronte di una cancellazione del team dovranno essere cancellati i membri di quel team e i progetti di quel team beh sicuramente mi vado a segnare il mio evento avrò due eventi in cascata di cancellazione sui progetti e sui membri banalmente però cosa succede se mi cambiano le specifiche cioè se per esempio mi dicono no guarda ci siamo sbagliati quanto realizzato non va bene vogliamo che a fronte di una cancellazione non mi vado a cancellare per esempio i membri perché potrebbero essere riallocati su altri team oppure alcuni membri hanno permessi quindi dei ruoli particolari su alcuni progetti in quel caso se noi avessimo mappato diciamo progettato la parte classica quindi con una modellazione ER e quant'altro avremmo già sviluppato il software probabilmente dovremmo metterci in mano in modo pesante quindi invece di appunto realizzare quindi di pensare nel modo classico pensiamolo cercando di andare a semplificare quello che è il nostro modello anche se è già sostanzialmente semplice di suo perché qui abbiamo tre entità però come facciamo a realizzare modellare seguendo il domain driven design questo per esempio specifico comportamento molto semplicemente andiamo a realizzare tre aggregati cioè dividiamo proprio concettualmente il dato del team il dato del progetto e il dato dei membri quindi delle persone che partecipano ogni aggregato ha al suo interno le sue entità il primo aggregato avrà diciamo l'entità team e il team e il team member cioè i membri effettivamente sarebbe sostanzialmente una vecchia associativa nelle R cioè avremo i membri l'ID dei membri a cui diciamo che sono afferenti a quel team avremo un aggregato che si occupa di gestire i progetti con la sua entità project member cioè quali sono effettivamente i membri di quel progetto e poi avremo un aggregato che gestisce una sola entità che appunto rappresenta le persone cioè i membri del team e quindi dei progetti dividendo in questo modo in realtà la semplificazione non è da poco questo che abbiamo fatto in quanto diviso in questo modo possiamo pensarlo ad eventi quindi e quindi diciamo abbiamo aggregati e quindi bundle context che comunicano quindi a fronte di un evento per esempio di cancellazione il diciamo l'aggregato per esempio che si occupa di gestire il team gestirà l'evento di cancellazione del team e poi eventualmente invocherà l'evento verso l'altro aggregato che gestirà in modo autonomo questa diciamo questa transazione quindi con una transazione per ogni entità vado a garantirmi non solo la consistenza delle entità coinvolte ma mi vado a garantire la funzionalità e se ci cambiano anche in questo caso altre specifiche avendo separato il nostro dominio dati probabilmente più facile metterci mano quarto step l'identificazione dei microservizi abbiamo a questo diciamo a questo livello dovremmo aver capito quali sono i nostri aggregati quindi dal bundle context quali sono i nostri aggregati se noi banalmente visto che devono comunicare ci aggiungiamo un'interfaccia che sarà nell'architettura dei microservizi rappresentato da un API quindi da appunto delle interfacce esposte verso l'esterno beh io probabilmente sono già in grado di andarmi a definire quali sono i microservizi nel mio modello di dominio quindi nel mio nel mio modello che ho appena che ho appena realizzato ciò significa che il domain driven design a questo livello ci dice esattamente ci dà come indicazione quali sono e quanti sono i microservizi coinvolti nella nostra nella nostra diciamo applicazione quindi nella nostra architettura se noi infatti prendiamo un aggregato e lo mappiamo così com'è con un microservizio quindi realizziamo su un aggregato il microservizio che si occupa di gestire quindi le funzionalità verso le proprie entità e verso i propri value object e quindi si garantisce internamente la sua consistenza beh abbiamo già fatto gran parte del lavoro questo perché perché abbiamo detto che un aggregato incapsula già la logica di gestione delle nostre entità quindi tutta la complessità è al suo interno esponendo poi quindi le interfacce possiamo andare a svilupparli come li sviluppiamo beh abbiamo detto che di base il domain driven design si basa sull'intescambio di eventi beh probabilmente conviene che utilizziamo gli eventi anche nella nostra architettura quindi generalmente si tenta di avere delle architetture e microservizi orientati agli eventi cioè per esempio l'abbiamo detto utilizzando sistemi di comunicazione asincrona come sistemi pubblici proprio orientati agli eventi verrebbe una diciamo facile implementare qualcosa che abbiamo diciamo modellato una volta definito il modello definiti quali sono gli aggregati definiti i microservizi vado a gestirmi la comunicazione ai eventi e per ogni evento farò diciamo la funzionalità interna del microservizio cerchiamo di evitare orchestrazioni troppo complesse e quello però dipende dalla scelta della granularità del microservizio ma adesso lo vedremo e poi ci permette di realizzare un pattern chiamato back-end for front-ends che è molto utilizzato anche ultimamente perché sostanzialmente ci dice che di specializzare il nostro back-end quindi diciamo la parte di business logic per ogni possibile client che si andrà a interfacciare con la nostra architettura banalmente se ho per esempio un'architettura che deve gestire un client quella che può essere per esempio una web application ma anche da gestione per esempio una mobile application beh invece di andare a in qualche modo impazzirci per definire le API che sono che sarebbero utili per entrambi specializziamo facciamo una parte di back-end dedicata alla mobile application e un'altra dedicata alla nostra web application ciò significa disaccoppiare ulteriormente anche a livello di funzionalità quindi tutto quello che abbiamo detto è per arrivare a questa slide cioè siccome abbiamo detto che nei microservizi la gestione dei dati è estremamente complessa tagliare fuori l'analisi del dato prima diciamo realizzare quindi la nostra architettura senza aver analizzato il dominio dati sul quale deve andare a interagire generalmente è fallimentare questo perché perché se sbagliamo il livello di granularità con cui andiamo a realizzare i microservizi impattiamo sostanzialmente non solo su il service side cioè sulla grandezza potenzialmente del microservizio tant'è che nel grafico qui che vedete diciamo nella parte tra l'application il server side sarebbe esponente è massimo per esempio lì c'è il monolite quindi generalmente il microservizio si tenta di porlo tra i bounded context e gli aggregati cioè diciamo l'ottimo sarebbe avere un microservizio per ogni aggregato però non solo andrebbe ad impattare negativamente sul server size ma anche sulla complessità di gestione perché se pensiamo per esempio e sbagliamo per esempio una realizzazione dei microservizi e facciamo un microservizio con ogni microservizio con granulità troppo bassa cioè per esempio un microservizio per ogni entità beh se a fronte di un dominio dati complessi probabilmente avremo tante entità e quindi avremo tanti microservizi e qui il che significa che avremo un numero di messaggi molto grande da gestire avremo delle transazioni da gestire molto complesso quindi avremo necessità di orchestrazioni estremamente complesse quindi generalmente si tenta di ottenere una giusta granularità e come lo facciamo? beh lo facciamo attraverso l'analisi del domain driven design e questo non è solo un consiglio ma sono delle best practice che generalmente si fanno quando si si inizia diciamo a costruire questi tipi di architetture e questo concetto è valido sia per architetture ex novo sia soprattutto per architetture che sono in uso e quindi sono sistemi legacy molto pesanti che devono essere migrati una fase di analisi è imprescindibile soprattutto per arrivare architettura e microservizi quindi l'abbiamo detto il domain driven design ci aiuta innanzitutto nell'architettura e microservizi in quanto abbiamo la flessibilità perché se modelliamo il nostro software la nostra architettura sul dominio dati probabilmente saremo in grado di tollerare nuovi requisiti e nuove modifiche molto più facilmente rispetto se abbiamo cannato la nostra la nostra fase di analisi la comunicazione è semplificata tra tecnici e esperti funzionali e quindi il software definitivamente sarà molto più diciamo manutenibile garantiamo l'evolvibilità della nostra applicazione della nostra architettura d'altra parte abbiamo due problemi fondamentali che vi riporto innanzitutto non è gratis cioè applicare il domain driven design non è affatto gratis è estremamente costoso in termini di tempo perché la fase di analisi è molto più ampia e quindi generalmente e questa cresce diciamo al crescere del dominio del dominio dati quindi non è non è gratis rispetto a un qualsiasi altro approccio e in più beh abbiamo necessità di esperti funzionali che siano quindi esperti del dominio e più cresce la complessità del dominio maggiore saranno le competenze richieste quindi se dobbiamo andare a modellare più parti del nostro business avremo necessità di più persone che sono skillate su effettivamente su quel dominio ok io ho concluso vi riporto le reference su cui diciamo ho basato un po' quelle che sono le slide di oggi a questo punto direi che se ci sono domande potete farle anche se volete se avete dubbi qualsiasi cosa fatele altrimenti andiamo andiamo un pochino avanti sulla parte di progetti della community se avete domande potete farle o io ho una domanda buonasera 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 sentimi quando hai parlato di orchestratore e di corogreci sì benissimo quando orchestratore ti intendevi mediator per esempio anche ce ne sono ce ne sono diverse di prodotti che fanno da orchestrazione ok ci sono anche potenzialmente vorresti anche costruirti un tuo orchestratore un tuo servizio che fa da orchestratore dipende un po' dal contesto generalmente non si fa perché poi dovresti andarti a gestire tutto il discorso di ridondanza del tuo stesso orchestratore in caso di default cosa succede quindi sì generalmente ci si affida a prodotti che fanno quel tipo di orchestrazione sì volevo capire siccome io l'ho fatto un progetto con mediator in questa maniera e utilizzando poi altri pattern come repository pattern o unit of works in quel caso in effetti io non ho utilizzato i domain events nei domain events è giusto quindi come approccio perché in effetti tu le suddivise le due espressioni allora è giusto in che senso cioè nel senso a livello funzionale potrebbe essere corretto però generalmente il domain driven design ti va a esplicitare anche l'interazione tra le entità e quindi quelli sarebbero a tutti gli effetti degli eventi gestiti dall'orchestratore cioè una volta che tu definisci analizzi il tuo dominio dati definisci le tue entità che poi diciamo devi andare sostanzialmente a realizzare funzionalità su queste entità se tu pensi alla funzionalità intesa come evento tra le varie tra le varie entità e quindi tra i vari aggregati in realtà puoi andarlo a mappare nel tuo orchestratore quindi realizzi in modo molto più veloce le tue le tue funzionalità le mappi più velocemente sull'orchestratore ok quindi sono approcci diversi insomma eh appunto questo volevo capire se sono approcci diversi o se possono convivere questo non ho capito io possono convivere però generalmente si tenta di averne uno di approccio poi dipende sempre anche dal discorso un po' tecnologico i vincoli i vincoli che avevi diciamo che il pitch di questa sera non era non era tanto un diciamo definire definire dei dei vincoli ma ma più di best practice per la realizzazione proprio dei micro servizi ci sono altri pattern che possono essere utilizzati per andare effettivamente ad analizzare il dominio dati però il domain driven design rispetto agli altri a parte che è abbastanza moderno perché nel 2003 è stato diciamo definito però si basa proprio sul concetto di di dato abbiamo la parte centrale è il dato da lì una volta che tu hai modellato il dato il che ti semplifica anche la modellazione di applicazioni ripeto che non sono necessariamente architetture poi a micro servizi cioè se io voglio semplificare per esempio l'accesso al dato di una mia applicazione legacy quindi di un monolite a layer io lo posso applicare il domain driven design comunque però che cosa ottengo ottengo probabilmente una modellazione più precisa e quindi un codice più manutenibile a prescindere che poi la vado a sviluppare su un'architettura a micro servizi ok mi è stato chiarissimo perché l'hai spiegato benissimo in effetti la mia domanda era proprio la best practice in questo contesto mio io per esempio non ho creato un domain drive design effettivo anzi mi sono basato sul database cioè in sostanza ho creato una sorta di ibrido se vogliamo dire perché mi sono creato le mie entità e basta mi sono fermato lì poi ho creato un orchestratore come editor per poter comunicare tra i vari repository e poi successivamente esporle ai servizi questo ho fatto io in sostanza però ma è giusto come approccio può essere giusto ok sono delle indicazioni queste si ok ti ringrazio volevo solamente capire per il resto va bene grazie grazie ciao ciao fra grazie e ho un se ci sono altre domande fatele se no leggo c'è una domanda sulla chat ok la leggo subito buonasera ho una domanda sulla Pire Composition rompe indipendenza dei microservizi ok ok la domanda è chiara è anche pertinente è una cosa spesso dibattuta e allora no non rompe l'indipendenza perché perché tu vai a specializzare il tuo API Composition in base alla funzionalità nel senso tu in qualche modo cioè i microservizi restano comunque indipendenti in quanto al diciamo espongono delle interfacce ma sono le stesse che espongono sia all'esterno sia al tuo API Composition quello che andiamo ad aggiungere è un diciamo un servizio dedicato a diciamo al recupero dei dati verso i microservizi però l'indipendenza ce l'abbiamo comunque sia tra i microservizi ma anche sul sul nostro API Composition di base spesso quello che si fa per esempio quando per esempio abbiamo delle dei microservizi restano generalmente davanti abbiamo un API Gateway l'API Gateway ti fa il routing verso i microservizi nulla ci vieta di inserire diciamo un un API Composition di mezzo cioè un microservizio che ti va appunto a invocare microservizi che restano del tutto indipendenti e poi ti aggregano la singola il singolo dato in base alla singola funzionalità quindi diciamo l'indipendenza è comunque è comunque mantenuto quello che viene detto giusto della duplicazione del dato è un'altra cosa che si fa cioè nel senso non è sbagliato duplicare il dato tant'è che spesso quello che si fa è duplicare il dato come ti serve mi spiego meglio cioè se per esempio ho una funzionalità dedicata non so per esempio a un gestionale probabilmente andrò a operare con dati relazionali quindi a SQL Server in altri contesti magari un altro microservizio vorrebbe essere dedicato su un database diverso non è detto che quegli stessi dati che ho mappati su un relazionale non li posso replicare tra virgolette replicare su un un'altra base dati per esempio su un MongoDB quindi orientato ai documenti perché perché magari per una particolare funzionalità differente dalle altre quindi magari un client che lavora in modo differente delle funzionalità in modo differenti debba andare a recuperare in modo più efficiente su un MongoDB rispetto che a un SQL Server o viceversa però qual è il problema che questi dati li dobbiamo ripeto rendere in qualche modo consistenti quindi replicare il dato è generalmente pericoloso perché perché teoricamente dovresti poi garantire la consistenza del dato quindi dipende un po' dal contesto non è non è sbagliato non è sbagliato a prescindere questo ve lo dico anche in base alla mia esperienza generalmente cioè anche ripeto generalmente si può fare la duplicazione in questo in questo contesto però non lo so io personalmente preferisco approcciarmi con questo tipo di pattern API Composition che in realtà ti va a ridurre anche la si chiama chatness diciamo tra il client poi e i microservizi perché incapsula la logica di comunicazione a livello di API Composer però diciamo la questione di indipendenza non viene rotta cioè l'indipendenza è assicurata però nell'altro caso devi garantire la consistenza del dato quindi si fa ma è pericoloso nel senso che bisogna bisogna farci attenzione ci sono devono esserci delle logiche che mi garantiscono l'aggiornamento del dato sui vari microservizi in qualche modo mi aggancio un attimo su questa vai vai perché se parliamo di duplicazione tra virgolette del dato nel percorso che facevamo c'è stato anche un pitch sul 5RS è bravo bravo infatti allora lì tu in realtà non hai una duplicazione del dato perché il dato vero e proprio è comunque quello che sta nel repository tu hai varie visualizzazioni del dato in maniera diversa in base a qual è lo strato che che deve attingere a quel dato quindi hai tutta la parte di vista e tutta la parte di command adesso non so se sapete cos'è il 5RS e come è implementato quindi per tutta la parte di select tu hai una materializzazione del dato che può anche essere duplicato apposta per gestire la parte di accesso al dato ma il dato vero e proprio è comunque nel repository lì e poi hai tutti i problemi di sincronizzazione vabbè un'altra storia però di per sé non è una bestemmia duplicare il dato perché tecnicamente i microservizi presuppongono che tu possa creare NDB quindi di per sé ci sta l'API composition è uno strato di visualizzazione se astraiamo molto il concetto anche il mio browser che visualizza un'applicazione che ho dietro al microservizio fa API composition poi se voglio proprio se voglio proprio completamente più possibile tenere ogni canale tra virgoletto ogni microservizio disaccoppiato allora passiamo al concetto di micro front end che è quello che vedremo la prossima volta vabbè fai pubblicità vi faccio autopubblicità però nel senso che una una diretta conseguenza di questa logica disaccoppiare qualsiasi cosa che poi alla fine disaccoppiamo anche noi stessi a volte però poi ha portato a creare il concetto di micro front end che vedremo è l'equivalente front end del microservizio ci sono altre domande? dubbi perplessità critiche sì in realtà Francesco c'era un altro diciamo un'altra aggiunta alla domanda riguardo il fatto che la join sì sì sono sempre io ho scherzo ma poi faccio prima a chiedere senza problemi allora beh la densa in che senso nel senso quello che intendo chiedere è che tu diciamo quando applichi questa tipologia di lavoro con una composizione generalmente immagino che tu fai un'ottima richiesta diciamo anche a ttp verso più microservizi quindi in qualche modo tu è come se facessi di fatto diciamo una join distribuita tra dati appartamenti assorgenti diverse al fine poi mi immagino di creare in qualche modo un model diciamo una visualizzazione che ti richiede in qualche modo il tuo client in questo contesto appunto ti chiedevo non ha più senso potrebbe avere più senso duplicare il dato in modo da costruire diciamo un model in qualche modo normalizzato rispetto a quello che diceva l'altro signore che parlava di Fabio allora lì devi fare un compromesso tra le tue esigenze in che scenario sei però lì poi apre tutto il problema della sincronizzazione poi non so certo noi ci abbiamo fatto un mitappo apposta quindi poi lì si discuteva infatti la risposta non è standard dipende un po' quello che dice è vero certo io ho chiesto perché la risposta non è standard e volevo sentire un punto di vista dipende dipende un po' dal contesto ti vorresti basare per esempio sulla sulla quantità del dato e la quantità dei microservizi coinvolti perché qual è il problema la latenza di cui tu parli c'è chiaramente e perché perché l'API Composer deve aspettare la risposta di tutti i microservizi che va a chiamare e quindi il chiamante dell'API Composer aspetta la sommatoria dei delay sui vari microservizi quindi dipende un po' da quello che deve fare in più c'è il delay secondo me anche dal punto di vista diciamo della rera bit nel senso che quando fai una composition di questo tipo se ti salta uno degli attori che ti compone in qualche modo lì tu sei bloccato quindi di fatto non sei indipendente dipende comunque da un altro servizio anche se vi comporta allora il chiamante dipende dagli altri microservizi e forse ho capito meglio allora la domanda di prima allora sì però i microservizi in sé rimangono i dipendenti quello intendevo però sì sì dipende nel senso sì dipende dal contesto certo certo capisco anzi generalmente guarda ti dirò di più anche rispetto a quello che è la nostra esperienza spesso ci sono entrambi i modi cioè se abbiamo architetture magari che che prevedono alcuni API Composer ma che hanno anche al loro interno magari una duplicazione in qualche modo del dato seguendo magari quello che ha detto prima o poco fa Fabio dipende un po' dalla funzione che dobbiamo andare a realizzare quindi non c'è una regola di massima nessuno ti vieta di fare l'API Composition può essere anche un microservizio che invece di accedere agli n microservizi accede a una lista dematerializzata con i dati che servono a lui a quel punto è semplicemente un altro microservizio con la sua base dati però lì tu hai fatto un compromesso perché poi la tua lista dematerializzata ad hoc dovrà poi tenersi aggiornata con il dato vero e proprio certo c'è un problema però lì fai lì fai una scelta cioè se sei un sistema real time in real time devo semplicemente mostrare le notizie aggregatele mostro poi dopo magari se mi si aggiorna rispetto all'ultima cosa pubblicata dopo 5 minuti non succede nulla dipende anche dallo scenario funzionale che quindi all'analisi del dato è tutto di quello di cui abbiamo oggi fondamentalmente al mio modello di dominio a che funzione di business sto in quel momento stai realizzando sostanzialmente sto realizzando ok va bene ringrazio grazie a te ci sono altre domande? non avete non abbiate timore insomma direi di no quindi o sono stato soporifero oppure tutto chiaro allora vado avanti mi permetto di dedicatemi 5 minuti di orologio vi riporto i canali social della nostra community se se diciamo avete interesse rispetto a quelle le nostre tematiche le nostre proposte ci potete trovare sia su diciamo praticamente su social c'è il QR code per il gruppo telegram in caso aggiungetevi perché vengono riportate le nostre iniziative quindi pitch eventualmente diciamo abbiamo anche articoli e quant'altro quindi ci fa piacere se partecipate e a livello di partecipazione scusatemi vi riporto le i nostri verso la condivisione scusatemi zoom che fa un po' abbiamo una community anche su github quindi abbiamo potete trovarci su sharpcoding.it attualmente i due progetti più attivi sono le sharp helpers che le trovate anche su github e sostanzialmente sono una collezione di diciamo di di utility sul codice diciamo ci stiamo lavorando abbastanza ci saranno anche delle unità casomai Fabio non so se vuoi integrare qualcosa vai diciamo che i vanno permettendo però questa è una po' in realtà le sharp helpers andranno in dismissione perché verrà fatta una ripresi che si chiama sharp API in cui all'interno ci saranno comunque le sharp helpers ma ci saranno altre utility per il cripting per il mock per per il caching vabbè varie funzionalità aggregate che faranno una sorta di appunto di API o comunque di piccolo framework tra virgolette quindi dovremmo rilasciare la prima versione a breve ok e poi aggiungo un ultimo progetto che abbiamo iniziato da poco quest'anno che è lo sharp reddish monitor che è una web application chiaramente strizziamo l'occhio siamo una community Microsoft quindi sviluppiamo tutto in C sharp e in AspNet Core in particolare e è una web application sostanzialmente di gestione e monitoraggio di distanze reddish sia per la parte on-premise sia per la parte del cloud quindi se vi fa piacere potete cioè vi fa piacere prima di tutto a noi se partecipate se volete mettere mano al codice trovate tutto su GitHub quindi in caso ci trovate lì era solo per darvi questo dettaglio quindi per me grazie per l'attenzione non so se Ivano vuole dire qualcosa ma se c'è eccomi eccomi ci sono sono stato un po' latente ma ci sono allora naturalmente se ci sono domande fatevi avanti anche se ho visto che comunque c'è stato uno scambio sì se c'è qualcosa vai per tutto per tutto il resto riceverete comunque una una mail per chi si è iscritto alla mailing list con il nostro prossimo appuntamento dove Fabio si è già fatto pubblicità in quanto parleremo di micro front end quindi riceverete anche lì il link per l'iscrizione sarà sempre online su Zoom quindi direi che anche questa è fatta e ci possiamo incontrare sicuramente nel prossimo evento grazie a tutti per essere stati presenti questa sera grazie per la partecipazione buona serata buona serata a tutti grazie a voi buona serata grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti chart coding grazie a tutti